Abbiamo iniziato che eravamo dei ragazzini quasi bampini e nessuno di noi pensava mai che dopo 50 anni avessimo iniziato questa incredibile storia. Imprese epiche passando per tutti gli stadi d'Italia e gli stadi d'Europa, sempre con la stessa voglia di attraversare l'Europa con i colori della Sampdoria addosso per sostenerla e per accompagnarla in tutti i suoi viaggi. Con la stessa voglia di fare casino per la Sampdoria. Insieme abbiamo fatto rimombare i nostri cori in ogni dove, sotto la neve o a 40 gradi. E' poco importabile, in fondo, se eravamo in Andy, perché il nostro amore d'altronde non conosce categorie. Siamo cresciuti su quei gradoni fianco a fianco, abbiamo visto i ragazzini diventare uomini e poi uomini venire sotto la tattoglia per i propri figli a tifare a Sampdoria. Hanno provato a fermarci e ancora ci stanno provando, ma siamo ancora qua, ancora più uniti, ancora più forti. Siamo arrivati ai 50 anni, ne siamo orgogliosi, è un'emozione grande, così come è grande la voglia di festeggiare in questo mezzo secolo un trastito cucchiarone. Quando? Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 giugno, alla Fiera del Mare. Generazioni di Sampdoriani, Ultras, incontriamoci ancora una volta per vivere insieme questo momento storico. Ci vediamo alla Fiera del Mare, sarà una grande festa, la festa di tutti noi e di tutti coloro che hanno il nome Ultras titolo nel cuore. Vi aspettiamo! E sempre e per sempre, Forza Sampdoria! Facciamo gli strani con le sciarpe e con i G, se andiamo alla partita per vincere. Non siamo criminali, siamo solo dei fans, e tutti gli altri giorni siamo uomini. Siamo Ultras! Siamo Ultras! Siamo Ultras! Siamo Ultras! Siamo Ultras!